La Coppa Italia è alle spalle, è già tempo di riprendere il discorso in campionato. Vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione, ben ritrovati da parte di Luca Brivio e benvenuti al centro sportivo Vismara di Milano, dove oggi si gioca il recupero della quinta giornata del campionato Primavera 1. Eccolo qui, il fischio iniziale, si va con il primo possesso, palla per il Sassuolo. Di Gesù, zona centrale, apre il gioco per Robac, ancora una volta lui in uno contro uno, punta l'uomo, va sul fondo Robac, buono il cross, la deviazione di Tonin che finisce sul fondo. Prima occasione, quando ci sono tre i minuti sul cronometro, Tonin 1 contro 1, punta l'avversario, arriva sul fondo Tonin, buona la finta, mette in mezzo dove ci sono tre avversari, però ancora Mionic dietro per Brambilla. Andiamo se riusciamo a trovare lo spazio per il tiro, Robac punta, va sul destro, il tiro che era interessante sul secondo palo messo in calcio d'angolo dalla chiusura della difesa. i ragazzi di Mr. Bigica, parte ora con il mancino Jack, il tiro che sfiora la traversa. Deviata anche la traiettoria del mancino di Olzer, dunque sarà calcio d'angolo. Di Gesù si presenta con Tonin in area di rigore, il pallone che poteva raggiungere Robac, fosse stato leggermente più lungo, ancora Tonin, il dribbling in area, ancora Tonin, doppio dribbling in sinistra ed è un grande gol! E' un grande gol del nostro Bomber, la sblocca al Milan, grandissima giocata personale di Tonin, che ha tutto il diritto di esultare per questo gol, che sblocca il punteggio. Milan 1, Sassuolo 0. Secondo gol stagionale per lui, punta Piccinini, lo salta sull'interno, poi il secondo dribbling e il mancino a pescare l'angolino più lontano, niente da fare per Vitale, non poteva nulla. La palla nuovamente in zona Saccani, l'imbucata centrale, ancora numero 24 in maglia bianca, che va al tiro, grande parata, doppia grande parata di Jungdall, miracolo, miracolo del nostro portiere, che infatti esulta, una grande occasione, la migliore finora per il Sassuolo, quando siamo a minuto 63. Attenzione, Holzer qui, ruba palla quasi, Vitale sta per combinare un disastro, la palla rimane giocabile, non c'è fallo, allora Milan porta sguarnita, Tonin non riesce a trovare il varco per tirare, la palla centrale su Holzer, di sinistro il gol, il gol del Milan, 2 a 0, la mette Jack e siamo 2 a 0, ancora una volta la premiata ditta, Tonin, Holzer, Milan 2, Sassuolo 0. Il Milan ha rubato palla senza fallo, e poi grandissima giocata con pazienza, e qui c'è anche un volé molto molto bella tecnicamente da parte di Holzer, con il suggerimento di Tonin. Attenzione al Milan che però qua si combina un pasticcio da solo, e purtroppo non ci voleva questo gol a riaprire la partita di Nico Manara, stavolta imprecisi siamo stati noi nel possesso palla difensivo. Ancora Milan con Oddi, fascia di sinistra, portiamo avanti il possesso, il nostro terzino si sgancia, punta la linea di fondo, Oddi irrefrenabile, arriva in zona cross, poi chiama in causa il compagno, Mionic per Brambilla. Brambilla, il suggerimento per Robach, il tiro di prima intenzione, grandissima opportunità per chiuderla. Grandissima palla di Capitano Brambilla per il taglio di Robach, qui alza in scivolata oltre la traversa. Siamo oltre i 4 minuti di extra time. Ultima possibilità per il Sassuolo con la rimessa in gioco, che non arriva però giustamente, è finito il tempo. Il Sassuolo ha preso troppi secondi, e dunque Milan 2, Sassuolo 1, tra le proteste dei ragazzi di Mr. Bigica che allontana i suoi per evitare ulteriori problemi. Però sicuramente il nostro telegramma finale, mentre scorrono le immagini della Vismara di Milano, parla di un Milan che vince ancora una volta, stavolta 2 a 1 contro Sassuolo. Vecchi cuori rossoneri all'ascolto in visione. Rimanete con noi, rimanete su Milan TV. Grazie. 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 Grazie.